Buonasera, chi vi parla è il sindaco di Merito Portosalvo, Giuseppe Meduri, siamo purtroppo in emergenza, abbiamo attivato il centro operativo comunale, il COC, per la pianificazione d'emergenza dopo il messaggio di allerta arrivato alle 15 di oggi, con emergenza dalla 17 del 25 di oggi per le prossime 24-36 ore. Il livello 2 è elevato, il codice rosso, quindi abbiamo inteso fare un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole degli asili comunali e quello che mi preme raccomandare a tutta la cittadinanza è di evitare categoricamente di prendere iniziative che possono creare pericolo per se stesse e per gli altri, in caso di emergenza di raggiungere luoghi sicuri se ci si trova per strada. Oppure, ove ci sia la possibilità, e questa è una raccomandazione, di rimanere chiusi in casa per qualsiasi problema, di contattare il centro operativo comunale al seguente numero 065 78 37 78, oppure al numero che troverete sul sito Facebook della Polizia Locale, al mio numero di telefonino che troverete su Facebook, o ai numeri classici 112, 113, 115. Quello che mi raccomando è di attenersi scupolosamente alle indicazioni che vi ho dato poco fa. In questo momento non c'è alcun motivo di creare allarme, anche se si può avvisare e si sta avvisando che nel corso delle nottate, nelle prime ore mattutine, le condizioni climatiche potrebbero avere un netto peggioramento. L'agurio che possa questa allerta passare velocemente e che velocemente si possono ritornare alle condizioni di un netto miglioramento e possa cessare questa emergenza. Quindi tutti a casa e per qualsiasi problematica noi siamo qua tutta la nottata. 112, 113, 115 e ripeto ancora, 78 37 78 è il numero per contattare il centro di emergenza. Grazie.